Ciao a tutti ragazzi e ragazze, venendo a fare un nuovo video Vado a fare un nuovo video su live Allora, già ho versato la... Va bene Già ho versato la colla Perché praticamente ho fatto il video e mi si è stoppato E quindi l'ho dovuto rifare Allora Avevo capito che non stava registrando Ho versato già la mia colla Glitte, che non si vede una cippa E mi ho versato quella oliviola Il glitter E quella bianca Un po' di pittura acritica bianca Ok, mescoliamo Già è denso come vedete La colla glitter è densissima E adesso aggiungiamo un pizzichino di bicarbonato di sodio Che ho la percina Vabbè, bicarbonato E mettiamo una puntina Eccolo qua Due puntine così Circa Vabbè, non si vede una ceppa E mescoliamo Potrebbe non farlo appiccicare il bicarbonato Non è densissimo che non ho messo il bicarbonato Guardate Guardate che strada reazione fa il bicarbonato Purtroppo io non ho la soluzione per le enti accontate Quindi non posso densare con quello il bicarbonato Mi fa Yolanda Switz Aiuto È dura a mescolare Devo prendere tutto quello che c'è ai lati E poi iniziamo ad aggiungere Aggiungere Ad aggiungere il nostro Dixon E mischiamo Come vedete Se già si sta attenzando Io l'ho fatto un altro per prova Che adesso vi faccio vedere Aiuto Si appiccica Aiuto Perché si appiccica Adesso ve lo mostro L'altro Che mi è riuscito Alla grande Ecco l'acqua L'altro E adesso li andremo ad unire insieme Lo vediamo Non è tanto appiccicoso Dai Diciamo Li uniamo insieme Aiuto Dai qua Ok Diciamo che l'esperimento di oggi è riuscito Notate le mie mani tutte sporche di slime Forse ci devo aggiungere un po' di maizena Non so che bel effetto glitteroso Poi farò anche il video di quello slime Con le palline tipo di stilolo Poi vi lascio il link nell'info box del crunchy slime Quello lì con un solo ingrediente Così ce ne è riuscito Mi bezzitbo Corri due